Favoreggiamento aggravato nei confronti di un boss di Cosa Nostra. Con questa accusa è finito in carcere Graziano Bruno Bianchi, proprietario dell'abitazione di Parre, dove Gaetano Fidanzati, catturato il 5 dicembre scorso a Milano, ha trascorso lunghi periodi della sua latitanza. Bianchi, già indagato dopo l'arresto del capo clan, è stato arrestato dalla squadra mobile di Milano, su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice che si occupa delle indagini. Durante queste, infatti, sarebbero emersi forti collegamenti fra il proprietario del villino di Via Libertà a Parre e il boschio lo aveva occupato. Tra l'altro, Graziano Bianchi, ora cinquantenne, all'inizio degli anni Ottanta era già stato arrestato per associazione sovversiva e partecipazione a banda armata. Allora l'uomo era militante dei colpo e comunisti organizzati per la liberazione proletaria, gruppo guidato da Giulia Borelli e nato da una costola di prima linea. Fu arrestato anche negli anni Settanta per porto abusivo d'arma da fuoco e nel 95 per spaccio di banconote false ed usura. È fondatore di una società per eventi. Sembra che sia entrato in contatto con il clan fidanzati lavorando nel giro dei locali notturni di Milano.